No, non farmi prendere la macchina. Parliamone per telefono, che è meglio. Ma quando è nato? E l'avete chiamato Everaldo? Ah, certo, come il nonno. Sì, 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 passamelo, passamelo. Everaldo? Oii! Pucci, 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 ta, ta, ta. Senta quanto è carino. Carino. Carino, sì. Adesso ti ci vuole la femmina, eh? Ah, ti fai la station wagon. Chi, io? No, finché non cade a pezzi non la cambio. Ti passi a prendere. Una telefonata allunga la vita. Eh, mica non so se mi libero.